buongiorno a tutti questo video è per la nuova rubrica di lazio polis lazio ti presento in cui andremo a parlare di calciatori emergenti del nostro campionato e dei principali campionati esteri giocatore su cui ci concentriamo oggi e manuel lazari in classe 93 della spalla di ruolo esterno destro un giocatore in grado di coprire tutta la fascia ma che attualmente viene utilizzato come esterno destro nel 4 4 2 giocatore è dotato di buona corsa e anche di buone qualità tecniche soprattutto nel passaggio nel cross e nella formazione di inzaghi di mister inzaghi potrebbe essere un utile rincalzo un utile sostituto di basta per esempio agire in un 3 5 2 come diciamo regista esterno e date le sue buone doti nel palleggio soprattutto in quelle partite in cui magari serve non dare punti di riferimento a squadre che tendono a chiudersi molto è dato comunque un giocatore che sta emergendo emergendo adesso sui palcoscenici della serie a il suo costo non dovrebbe essere elevato e quindi potrebbe risultare un buon colpo di mercato per per la lazio fateci sapere cosa ne pensate di questa rubrica e di questo giocatore e ciao a tutti